Io non voglio né enfatizzare né minimizzare il contributo che può dare la calata dei ministri durante una campagna elettorale. Secondo me la differenza vera non l'ha fatta la presenza dei ministri in campagna elettorale, ma la loro credibilità perché non era la prima volta che venivano. Cioè Meloni, Salvini, Tagliani e tutto il seguito, cito solo i tre leader, presidente e vicepresidenti del Consiglio, ma tutto il seguito dell'intero governo che si è speso in lungo e largo per l'Abruzzo, non lo ha fatto a sette giorni dal voto dopo la paura sarda, perché se fosse stato questo avrebbe avuto l'effetto contrario, perché nessuno è fesso e neanche gli abruzzesi. Siccome invece questo governo ha lavorato, decreto sulla ricostruzione, finanziamenti per la ferrovia, la concessione delle autostrade a 24 e a 25, insomma tutta una serie, il G7 a Pescara, cioè sono tutta una serie di attività, di opere, di impegni, di finanziamenti che si stanno sedimentando e sui quali gli abruzzesi hanno percepito che c'è un governo che finalmente ci ascolta e che ci aiuterà a risolvere problemi che attendevano da generazioni di essere affrontati, che non ci vorrà un giorno per risolvere, perché quando punti sulle infrastrutture sai che devi lavorare sul tempo lungo e nell'immediato non producono un risultato. Questa era anche la difficoltà principale della nostra campagna elettorale. Io mi sono anche un po' su questo, come dire, arrovellato il fegato, ne ho parlato anche con Giorgia stessa, che a volte ti scoraggi a lavorare, come dire, a governare seriamente e non a fare propaganda, a realizzare gli impegni, a mettere in fila le procedure, le carte, le autorizzazioni, gli appalti, tutto il resto, che emerge poco. E però poi la campagna elettorale magari si svolge su un'onda emotiva, su altri temi che toccano magari la pancia o la sensibilità delle persone in maniera diversa. E questo va a detrimento però della buona amministrazione e della buona politica. E io sono davvero sollevato e felice di vedere che alla fine il messaggio è passato, che i cittadini ci hanno dato fiducia e che potremmo anche mostrare a breve frutti ancora maggiori del lavoro che abbiamo fatto, di cui si è già visto tanto, altrimenti non sarebbe accaduto che in una regione dove mai un governo uscente era stato rieletto, anzi, tutte le amministrazioni uscenti iniziarono le campagne elettorali in forte svantaggio e persero rovinosamente con svantaggi pesanti. Quindi aver, come dire, retto, mantenuto il consenso durante i cinque anni di mandato e fatto una campagna elettorale che ci ha dato il delta in più per dare la zampata finale è stato davvero un capolavoro che non ha debito alla mia persona ma la compattezza di una coalizione che, a differenza magari di stagioni passate, ha saputo dimostrare serietà, senso di responsabilità, lealtà reciproca per cinque anni e durante tutta la campagna elettorale. Ognuno ha fatto il suo e tutti insieme abbiamo portato a casa un risultato storico per l'Abruzzo.